di assoluta condanna della tradizione monologica. Tanto è che quando poi, in uno dei suoi discorsi dell'ascensione del 1927, Mussolini citava proprio i resti della presenza legittimista a Napoli, ne parlava come una sorta di curiosità, che si era infranta contro i macichi della storia. Ma niente di cattivo, voglio dire, perché lo dava come qualcosa di passato e mio, e quindi non aveva una incidenza del momento. Ecco, proprio un attimo fa parlavamo, con il collega che poi mi seguirà, e parlavamo di Adam Tettio. Siamo nel 27, nel 28 Adam Tettio, che è uno dei più evidenti critici letterari del Novecento americano, ma chiunque faccia la storia della literatura nordamericana presto o tardi deve confrontarsi con alcuni dei suoi giudizi critici. E nello stesso tempo era anche un valvo poeta, non dei Sommi, ma insomma era un eccellente poeta, e l'anno successivo, quindi siamo nel 28, pubblica l'Oder ai Caduti Confederati, che è un lavoro di grande pregio, innanzitutto politico. Quindi c'era quella sensibilità che porta tante difficoltà, non è che al sud degli Stati Uniti non ne abbia altre di queste difficoltà, non è che non abbia battito isolamenti, non abbia battito discriminazioni e così via, però poi, per tante ragioni, che so io, lo stesso ordinamento federale, per tutte le scelte, eccetera, la capacità di ritrovare una propria identità, che è il movimento degli agrarians, di cui, quindi, degli agrarians, di cui prima facevamo centri insieme, tutto questo è servito a far sì che una memoria, una identità, per noi, la prima volta, come dicevo, la prima volta che siamo stati negli Stati Uniti d'America, una quarantina d'anni fa, mi meravigliai perché non c'era bar che non avisse la bandiera confederata, tutt'anni per di noi. Quindi, che cosa invece succede da noi? Succede che la cosa è molto diversa, insomma, torniamo allora un attimo indietro, torniamo al 1859, la pace di insuridore. All'articolo 18, lì le potenze firmatari dell'accordo concordano e si obbligano ad adottare, a favorire, quindi, un ordinamento confederale per risolvere la questione italiana. Sappiamo tutti come è andata a finire. Nel giro di pochi mesi, esattamente quello che non scoliva, che addirittura il Santo Padre avesse la presidenza onoraria della Confederazione, nel giro di pochi mesi le cose cambiano decisamente, per cui sappiamo tutti come è andata, l'anno dopo, l'impresa dei Mille, prima rivolta di Sicilia, poi l'impresa dei Mille, l'occupazione di Napoli, ecco. Allora, il sovrano, oramai era Francesco II, cerca di portare ai rivari, no? A una vera e propria opzione costituzionale, che noi siamo soliti contestare. Diciamo che è stata una forma di debolezza e così via. In realtà, quando noi andiamo a studiare, per esempio la parte di Carmine Pinto con grande acume, quando noi andiamo a studiare gli epistolati, dei prigionieri di guerra, borbonici e così via, vediamo, oppure le reazioni della stanza, vediamo che la gente gradisce quel tipo di cose, chiaro, gradisce quel tipo di svolta di Francesco II. E noi dobbiamo tenere presente tutto questo. Si arriva più avanti, e qua comincia, e qua cominciano i droghi, si arriva più avanti, Garibaldi entra a Napoli, poco dopo, un mese dopo, sbatte fuori dall'università, Garitana San Sedevino, non solo lui, ma sbatte fuori Garitana San Sedevino. Cioè, l'area che è qui attorno, quindi l'area Capoana, era ancora dovente, e non si pensava che sbattere fuori dall'università Garitana San Sedevino, il quale abbiamo schierato su posizioni più corpondiche. Che cosa voglio dire con tutto questo? Voglio dire, è vero che l'occupazione che Montesi, che poi è stata trasformata ovviamente in una nuova entità politica, il Regno d'Italia, ha agito con ferocia, indiscutibile, quindi, con assoluto rigore, con mezzi che, in tutta questa area, mi è detto, è strane alla tradizione corpondiche visionate. Però, è altresì vero che l'impostazione data dagli occupanti era tale da affrontare la problematica, questo Sud, che era l'unica parte d'Italia che si livellava, che si livellava, che si livellava per anni in Europa, ma non militari, la problematica, allora, era quella di tenere a vada, di controllare il Sud da vari conti di vista, anche da quello congiurato. Quando ritorna in attività l'Università di Napoli, dopo una breve interruzione, noi vediamo che progressivamente vengono nominati professori legati al nuovo ordine e tra questi, per esempio, c'è Bertrando Spalente, che con la sua idea della circolazione della filosofia, no? Nell'ambito europeo, in realtà che cosa va? Si pone come una vera e propria filosofia della nuovità, cioè una filosofia dell'Italia quindi c'è un'azione ad ampio raggio che ovviamente può contare sia sulle bocche da fuoco, appunto, nel senso stretto, cioè sui fucini, no? Sia sulle bocche da fuoco, della comunicazione perché mentre, che so, dopo tre numeri la tragica media di il desibo viene rechiusa, adesso è una propria di iscritti che condizionano anche l'aspetto culturale, sociale, economico, eccetera. quindi l'azione che il governo comunitato viene facendo in questo tempo è su ampia scala. Come reagiscono? Sappiamo tutti il re dopo la caduta di Gaeta a febbraio del 61 ha trovato rifugio a Roma. Questo fatto che cosa comporta? Comporta un inastrimento addirittura, tant'è che ad un certo momento Napoli non è perso gli consiglia di trasferirsi sotto la sua protezione in Francia e così via. Il re è giuda, allora dice giusto un rigatto, no? E quindi rimanendo là ed organizzando addirittura un governo in esilio che aveva le forme di rappresentanza